Operano sul territorio di Taranto da oltre tre anni, non sono ancora un'associazione ma un movimento libero che raccoglie fondi, generi alimentari e di vestiario per i meno abbienti e le persone in difficoltà. Sono gli amici di Plinio, un gruppo di 16 volontari che aiuta una sessantina di famiglie in tutto il territorio cittadino e che adesso ha lanciato una nuova raccolta per favorire il rientro a scuola di tanti piccoli amici. Abbiamo intervistato la fondatrice del movimento Valentina Battaglia. La raccolta che in questo momento abbiamo in corso è una raccolta che permetterà a tantissimi bambini di circa una sessantina di famiglie nella zona di Taranto di affrontare il back to school, ovvero il rientro a scuola, per cui raccogliamo fondi di qualunque tipo che possano aiutare i bambini a raccogliere materiale scolastico e quant'altro. Chi vi vuole contattare per aiutarvi cosa deve fare? Può contattarci sulla nostra pagina Facebook gli amici di Plinio o direttamente sul mio profilo Valentina Battaglia. Vogliamo raccontare quanti sono gli amici di Plinio e quante famiglie aiutate? Attualmente sono circa 60 le famiglie di vari quartieri della città che aiutiamo e sosteniamo. Gli amici di Plinio sono oltre me circa una quindicina di volontari. I più importanti e preziosi sono Amir Hama e Daniela Perrone che sono praticamente i miei bracci destri.